avvocato ho deciso mi voglio separare ma perché vi volete separare la separazione è una cosa seria prendetevi una pausa di riflessione ma che pausa di riflessione tutto tempo perso e a questo la conosco benissimo è un carattere impossibile tre mille motivi per dire come è impossibile questa qui ma come ma ditemi almeno un motivo allora il primo motivo è che questo tiene un carattere impossibile e non vado d'accordo con nessuno non è vero avvocato io vado d'accordo con tutti i suoi amici e questo è il secondo motivo